Non ci sta a quello che lui definisce killeraggio politico. Stefano Maullo, assessore regionale alla protezione civile, reagisce con una querela per difamazione alla serie di articoli apparsi nei giorni scorsi su Repubblica, circa i rapporti tra Andrangheta e gli appalti nel comune del sud di Milano. L'assessore che si definisce assolutamente strano alla vicenda richiama gli atti del Tribunale di Milano che smentiscono il suo coinvolgimento nelle indagini in corso. Querela Repubblica, querela il giornalista che ha scritto, querela per un modo di fare giornalismo che è puro killeraggio politico. Con il ricavato andrò a sostenere le bambine afghane per poter permettere a loro di frequentare la scuola. Perché Repubblica in maniera scientifica si sta facendo portavoce e strumento di qualcuno che ha tutto l'interesse di legittimare il sottoscritto.